Questo è il nostro lavoro, mia cara. Loro stanno sotto i riflettori, noi lavoriamo dietro le pinte. Si può mettere lì? Usciuti dicono le cazzate per tenessi il lavoro. Oddio, scusa. Però Riccardo, se ti devi muovere con tanta goffaggine, cambia veramente. No, ho bisogno di no, vengo malissimo in video. Il sostegno, il sostegno della... Vai, 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 con tu il servizio. Sono sicuro che noi ci intenderemo subito, no? Ma senz'altro. Toglimi lo chiaia per favore. Toglimi lo chiaia per favore. Basta! 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 Finito? Ben finito. Che mi volevi dire? Vorrei che si spaventasse. Vorrei dargli un'immagine tranquilla, serena. Un padre, una compagna, una casa accogliente, normale. Raul, sei una pippa. Ma vedendo! Ehi! La felicità, commozione, Aspetta, città! La felicità, commozione,